ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sullele king tv e con quest'altro ce lo mi manca della raccolta calciatori 20 21 come al solito ragazzi lasciate subito immediatamente un bel like a questo video e fatemi sapere a che punto siete anche voi con la raccolta se siete riusciti a finire già qualche squadra di serie a io ancora serie a non ho terminato intanto 3 della serie b iniziamo subito con la prima figurina che è quella dell'atalanta quindi non abbiamo trovato copertine quest'oggi che è la numero 57 che ci manca anche che è davanzapata bomber della tea poi andiamo al bologna quindi saltiamo il benevento andiamo al bologna dove abbiamo la figurina numero 88 che è danilo poi abbiamo la numero 94 che è dix poi abbiamo la 103 che è vignato questa volta abbiamo fatto strike con il bologna tutte tutte mancanti voi e poi abbiamo la maglia del bologna 110 e ci manca anche questa ragazzi quindi stiamo iniziando alla grande adesso l'abbiamo messe tutte le figurine che ci sono capitate bene maierbologna è messa andiamo al cagliari dove abbiamo la 135 che è paoletti e troviamo subito il primo doppione ragazzi come al solito ce la siamo tirata poi andiamo al crotone dove abbiamo la 141 che invece ci manca che è macallan poi abbiamo la 156 che ci manca anche questo che è molina poi abbiamo la 179 della fiorentina che ce l'abbiamo 300.000 volte è un'ossessione poi abbiamo la 192 che ci manca che è criscito il giocatore è tornato al genova dopo la sua esperienza in russia allo zenith 213 che è mattia destro poi dobbiamo andare all'inter ecco l'inter dove abbiamo la 250 che cola roba che ci abbiamo ex giocatore della lazio e della roma e del manchester city poi andiamo alla lazio abbiamo la 315 quindi dobbiamo saltare anche la juventus e andiamo alla lazio 315 e caissé dove ci manca poi andiamo al milan dove abbiamo la 338 castiglieco che ci manca ecco qui castiglieco poi abbiamo il navoli abbiamo trovato la figurina numero 356 mario rui e ce l'abbiamo e la 357 invece ci manca che è gulam poi del parma abbiamo la 395 che è roberto inglese che ci manca va qui sotto a destra della roma abbiamo trovato la 405 con bulà ex giocatore del verona classe 2000 l'anno scorso una grande stagione questa è la roma un po in ombra ma come può tutta la la difesa diciamo giallorossa poi abbiamo trovato a 416 che è zagnolo poi dobbiamo andare all'udinese col 533 quindi dobbiamo andare pericchi avanti scufette eccolo qua sembra fosse il nuovo buffon poi per lui non stagioni felicissime ma è andato anche in prestito un po in giro addirittura quando debuttò in serie a lo voleva l'atletico madrid se non sbaglio adesso è tornata utile a fare il secondo quest'anno poi dobbiamo andare alla serie b la prima figurina è la cremonese è allo stemma della cremonese col 624 e ci manca lo stemma della cremonese poi dell'iccio abbiamo la 649 che c'è c'è da qualche parte c'è dov'è anche perché c'è sta sto barbone qua fatto sta non lo vedo non lo vedo eccolo eccolo ragazzi che era maier allora poi abbiamo la 694 me sto in mezzo a cieca ragazzi eh è lo stemma della regina che ci abbiamo e quindi niente ragazzi per oggi è tutto abbiamo trovato pochissimi doppioni devo dire perché stiamo arrivando a un punto dell'album dove è facile trovare doppie e invece questa volta ci ho detto abbastanza bene quindi io vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti